Saranno oltre 45.000 gli abruzzesi che trascorreranno la Pasqua col Covid. L'Abruzzo è la regione italiana dove il virus circola maggiormente, l'unica questa settimana, a superare il valore di incidenza di 1.000 casi per 100.000 abitanti. Il valore medio nazionale è di 717. In Abruzzo è esattamente di 1.014,6. Nella classifica del numero di contagi rispetto alla popolazione seguono Umbria e Veneto, mentre l'incidenza più bassa è quella che si registra in Valle d'Aosta. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Responsabile dei contagi è ormai in toto la variante Omicron, in particolare la sottovariante Omicron 2. Le province più colpite sono quelle di Chieti e Teramo. Omicron mediamente ha tempi di negativizzazione più lunghi, dai 15 ai 20 giorni. Le ospedalizzazioni però, benché l'alta incidenza del virus, restano stabili, sia in area medica che in terapia intensiva. L'analisi dell'IS, inoltre, i cui dati sono a partire dallo scorso 6 dicembre, quando cioè ha avuto inizio la diffusione di Omicron, mette in luce un aumento del rischio di reinfezione. Nell'ultima settimana la percentuale di coloro che guariti si contagiano di nuovo è del 4,4%, lo 0,3% in più rispetto alla settimana precedente. Le donne sono maggiormente a rischio contagio bis, così come coloro che hanno meno di 50 anni d'età. Soprattutto però è più facile che contragga nuovamente il Covid che è guarito da oltre sette mesi o chi si è vaccinato da più di 120 giorni. In totale, dall'estate scorsa, sono stati oltre 330.000 coloro che in Italia sono stati reinfettati. Questa, ad ogni modo, sarà una Pasqua con meno restrizioni. Il Super Green Pass è necessario in strutture sportive, discoteche e cinema, mentre quello base, ottenibile con test negativo, serve per entrare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi a lunga percorrenza o per effettuare colloqui in carcere. Niente Green Pass, invece, per consumare all'aperto e per il trasporto pubblico locale. La Conferenza Episcopale Italiana ha diffuso le norme per i riti religiosi. In chiesa ancora obbligo di mascherina, ma sparisce il distanziamento sociale. Per il liturgico scambio di pace, però, basterà uno sguardo o un inchino, senza alcuna stretta di mano, mentre le acque a santiere rimarranno vuote.